È un gruppo amatoriale che realizza costumi, oggettistiche e scenari inerenti al mondo cosplay. Dopo essere stati avvicinati a quelli che con gli anni è diventato una vera e propria passione, grazie al genere Steambook, Tanni partecipano al British Day Skio, Game.com ed altre fiere ed eventi dove creano installazioni e status fotografici per esporre i propri costumi, le loro creazioni e alcuni elementi scenici. E quindi, amici della piazza, un bello applauso all'uomo di Skio!